Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi è un giorno di festa, ringrazio per noi di Human Technopole, ringrazio di cuore l'assessore Guidesi, la vice sindaca Scavuzzo, i sottosegretari Freni e Sileri e naturalmente la Ministra Messa per aver voluto inaugurare con noi questi nuovi laboratori, bellissimi. Tre anni fa, quando Mattei arrivò a Milano per assumere il ruolo di direttore, eravamo in dieci, in un ufficio di Palazzo Italia che era l'unico utilizzabile e non solo questi edifici non c'erano ma tutta l'area attorno era ancora Expo 2015 con i padiglioni in piedi. Oggi qui siamo 250 persone, mi dispiace che devono stare tutti su un lato, diciamo io non l'ho vista questa regia, se no magari avrei chiesto qualcosa di diverso. Se no non mi sentono, grazie. 250 persone con scienziati che sono venuti e stanno venendo da tutto il mondo e soprattutto l'intera area MIND si sta popolando di istituzioni, di organizzazioni, di imprese, di persone che vengono qui per seguire il loro desiderio di scoperta, di innovazione e di creatività. E questo è possibile grazie all'impegno di tante persone che vorrei ringraziare, i compagni di strada di MIND a partire da Igor Di Biasio e di Arexpo e Andrea Rookstool di Land Lease che assieme al Galeazzi e alla Statale hanno sempre creduto a un'idea che sembrava impossibile, ma come? Creare un ecosistema di innovazione a livello globale? Da zero in Italia ma scherzate? Ora credo che sia evidente che non abbiamo scherzato, il livello delle presenze qui in MIND è ormai così significativo da farmi chiedere chi sarà il prossimo. E questo dipende, consentitemi un altro ringraziamento, ma scusate questo momento a me serve per fare i ringraziamenti, questo dipende soprattutto anche dal più junior degli impiegati amministrativi. La nostra è una struttura di persone dedicate che hanno avuto e ancora hanno un mestiere speciale, quello di entrare in un luogo che non c'è, di fare crescere, nascere in un'istituzione nuova ed è una cosa molto difficile perché ci si trova in continuazione davanti a situazioni nuove, inaspettate e tutti loro vivono questo impegno più come una vocazione che come un lavoro. Ma senza questo approccio questa sfida sarebbe stata impossibile. È una struttura, quella di HT come quella di MIND, che è qui per servire l'innovazione ma senza la quale nessuna scienza sarebbe possibile. L'importante lavoro uscito su Science la settimana scorsa di cui la stampa internazionale continua a parlare e congratulazioni Giuseppe Test e i suoi coautori è anche merito di questo impegno. Human Technopole è un istituto pubblico italiano e internazionale e penso che il lavoro fatto con diligenza, precisione, rispettando i tempi nonostante la pandemia e tutte le difficoltà ha mostrato anche quanto sia possibile fare cose in Italia che aspirino a scardinare i luoghi comuni, non più luogo di fuga dei cervelli ma grande paese di circolazione dei cervelli. Forse questa è la legacy più profonda di Expo 2015, un passo alla volta tutti insieme si va più lontano di quanto avremmo pensato e sicuramente più di quanto ci dicevano che saremmo andati. Oggi per noi è un giorno di gioia ma è anche carico di angoscia per i nostri amici ucraini che ieri si sono svegliati sotto le bombe, che in Europa eravamo convinti di aver bandito per sempre. Ecco, io credo che fare crescere un luogo come questo, che oggi ospita ricercatori di 20 nazionalità sapendo che saranno di più e cresceranno queste nazionalità. Persone che hanno letteralmente lo scopo esistenziale di migliorare la vita umana, di renderla con meno dolore e meno sofferenza, sia la risposta più forte per quanto nelle nostre capacità, nel poco delle nostre capacità, a chi vuole portarci indietro e la rappresentazione vera e concreta dei nostri valori più alti. Io concludo ringraziando Ian Mattai. Working with is a great privilege. E per vostro tramite, onorevoli membri del governo, anche i vostri predecessori, per il sostegno che abbiamo e ho sempre ricevuto negli scorsi tre anni e mezzo molto difficili, molto complessi e senza quale HT e questi laboratori non sarebbero stati possibili. Per me è un onore e un privilegio lavorare con tutti voi. Grazie. Thank you, Marco. I'd also like to share your welcome to Minister Mesa, to the Undersecretaries, Larry and Frini, and to the Deputy Mayor. I can do long speeches without paper, but I need to read short speeches. So, Human Technopole's mission is to improve people's health and well-being by carrying out frontier research in personalized and preventive medicine. Why personalized medicine? Our DNA sequences are all more than 99.9% identical. But if you just look around you, you will see that we all look different. Similarly, we respond differently to different foods, to different drugs, to different types of infection. we respond as individuals just in the same way that we look like individuals. And diseases that have a genetic component that affect different people differently, like cancer or diabetes, are actually not one disease, but families of different diseases that affect different people differently. The challenge that personalized medicine seeks to solve is how to make effective treatments for individuals. Because the treatments we have now work very well for a proportion of individuals, but actually can even be harmful for other individuals, depending on their individual characteristics. That's why personalized or stratified medicine is an important area for the development of research and for the development of health research in particular in the future. In the last three years, we've constructed the foundations of a life science research institute that if we can continue to work with our funding ministries to overcome obstacles, can be unique in Italy and competitive worldwide. International internationalism characterizes human technopole from recruiting the best international talents to creating an inclusive and internationally competitive research center. And research is a combination of collaboration and a requirement to work together and being competitive not competitive individually and aggressively, but being able to produce research of the highest possible quality. Despite the pandemic, we've achieved multiple important goals so far. We have been able to recruit internationally as already described by President Simone. In terms of infrastructure and equipment, when I arrived and even before when Marco arrived in 2018, we had 500 square meters of office space in Palazzo Italia. We now have in all the buildings around Palazzo Italia and Palazzo Italia over 20,000 square meters of laboratories and offices. And we can only do that, and again, I echo Marco in saying this, we can only do that because of the efforts of all the people who joined Human Technopole, built up the administration, built up the facility development, and made it possible for us to quickly, together with our partners from Mind, Lend, Lease and our Expo, who we are proud to work with all the time, to make this possible and to make it possible quickly in spite of, as I said, the pandemic. What we've created are not just ordinary laboratories. What we've created are some of the internationally leading research facilities in the world. People will come to Milano, not just from Italy, but from other countries to make use of these facilities, and we want to make that possible. Another important function and another important requirement from the scientific system is dissemination, is communication with the wider public. Although it's still early days, in terms of the scientific public, we've already published a number of very high-profile publications from people with HT affiliation. We've been awarded already 8.3 million euros in competitive external grant funding coming from the European Union, including the European Research Council, other European funders, but also coming from private companies and private foundations, many of those foundations located in the U.S. We've organized scientific training courses, launched an early career fellows program for young scientists who will work in institutes throughout Italy, and we've organized and participated in many events for the public, both outside Human Technopole and inside Human Technopole. Our goals for 2022 and beyond are to build on these foundations, creating a stable environment for internationally competitive research, to continue to grow internally and to collaborate broadly externally. We will work together with our funding ministries, our funding ministries represented here, to ensure that this is possible and that we can continue this stable development. I hope that you will continue to follow us and support us sharing our progress and initiatives. And thank you all for being here and thank you once more to all my colleagues who are around the edges from Human Technopole for joining us today. Thank you. Grazie. Innanzitutto ringrazio il Presidente della Fondazione per l'invito ovviamente ringrazio tutti gli scienziati che ho incontrato questa mattina i laboratori che mi hanno fatto vedere mi hanno a dire il vero fatto fare un tuffo un po' nel passato e anche nel futuro visto che tornerò alla mia prima vita e quando avrò finito questa esperienza politica però è stato davvero bello ed entusiasmante soprattutto camminando nei laboratori pensare a quando saranno davvero pieni di scienziati cioè spero molto presto da oggi ma vederlo a pieno a pieno regime ci sono alcune parole precise sulle quali vorrei soffermarmi per commentare il momento che celebriamo oggi e che chiaramente ho l'onore di presenziare a nome del Ministro della Salute a nome del Ministro Speranza del Sottosegretario Costa credo che le parole da usare siano quelle che che sono nella mission dello Human Technopole che è supporto della comunità scientifica nazionale internazionale nell'ottica e credo che la parola chiave sia nell'ottica del servizio questo è lo scopo servire servire il singolo servire la comunità servire il territorio servire le altre istituzioni spesso non si sottolinea abbastanza il lavoro dei ricercatori il lavoro dei ricercatori è sempre un po' un po' all'oscuro un po' un po' un po' nell'ombra è per questo che ringrazio tutti voi che siete qui perché dietro diciamo quel lavoro vi sono tanti sacrifici vi è tempo tolto alla famiglia vi è tempo tolto a se stessi un tempo prezioso che forse va valutato un po' di più dai politici dalle istituzioni spero che il futuro possa essere migliore del passato che che abbiamo vissuto in Italia per la ricerca e sono convinto che sarà così tutti dobbiamo comprendere che la ricerca è costruzione condivisione replicabilità multidisciplinaria multidisciplinarità ma soprattutto coesione credo che la ricerca e la sanità siano forse il collante migliore per la nostra società e penso che ciò che abbiamo vissuto negli ultimi due anni abbia dimostrato come la ricerca è soluzione la ricerca è svolta la ricerca è mezzo per uscire fuori dai problemi per ricerca intendo anche oltre la ricerca intendo la formazione che vi è dentro la ricerca quindi scusate se parlo di ricerca ma attacco alla parola ricerca anche la formazione che è quella qualità preziosa abbiamo visto prima un microscopio bellissimo del valore di diversi milioni di euro però è come una Ferrari che però ha bisogno del miglior pilota per essere guidata e quel miglior pilota è sicuramente una persona che deve avere una formazione che non trovi dietro l'angolo lo Human Technology è un nome che racchiude un messaggio significativo è un catalizzatore quindi di professionalità oltre che di tecnologia di eccellenza ma accompagnata da da un tratto umano da quel tratto umano senza il quale la ricerca non può esistere sono quindi orgoglioso di essere qui e pensare a un centro attrattivo che tiene alto ovviamente il nome di Milano della Lombardia dell'Italia intera in un panorama scientifico che ha sempre visto e sono convinto che continuerà a vedere l'Italia come diciamo centro di eccellenza spero che tantissime persone decideranno di rimanere in Italia di tornare in Italia come diceva il professore Pocanzi non solo persone italiane che devono rimanere in Italia perché possono trovare qui una casa scientifica che li accoglie ma anche persone che dall'estero possono decidere di stare in Italia quindi grazie davvero io confesso che avevo preparato qualcosa da dire ma in realtà non di roccio che avevo preparato le uniche cose che avevo preparato erano i saluti del ministro Daniele Franco che ovviamente riporto i saluti e l'orgoglio del ministro Franco che mi ha pregato di partecipare a tutti voi ciò che avevo pensato di dire dicevo non lo dirò perché io ahimè ho una formazione da umanista non ho una formazione scientifica e come ogni umanista purtroppo vivo molto di fede e poco di opere ecco io oggi qui ho visto le opere e quindi quello che avevo pensato di dirvi rispetto alla mia fede verso la scienza e tutti i miei alati discorsi sul vostro meraviglioso lavoro io oggi qui li ho visti concretizzarsi io oggi qui ho visto per la prima volta almeno nella mia vita come la scienza tocca veramente la vita umana come la scienza ma non la scienza non le medicine che prendiamo tutti i giorni perché quello sarebbe certamente un altro mezzo utile per vedere come la scienza si avvicina e tocca la vita umana ma come il vostro lavoro la prospettiva del vostro lavoro possa dare quel tocco di vita in più come voi stiate lavorando per il nostro futuro e come quel sentimento di orgoglio che il ministro Franco mi prega di parteciparvi sia il mio sentimento di orgoglio perché come diceva San Giacomo la fede senza le opere non è nulla e noi oggi qui abbiamo le opere ecco queste opere che mi rendono ancora più orgoglioso perché sono opere messe in piedi in pochissimo tempo perché questo centro è un centro di eccellenza che si è sviluppato in brevissimo tempo perché è un centro di eccellenza che come è stato detto attrae i guidatori di quella Ferrari cui faceva riferimento Fabrizio Sileri attrae quei guidatori attrae i migliori guidatori del mondo e attrae guidatori anche italiani che hanno passato la loro vita all'estero e che oggi vengono qui a guidare questa Ferrari tutto quello che volevo dire oggi era qualcosa di alato di meraviglioso sulla scienza e invece oggi vi dirò solo quanto sono orgoglioso di poter essere qui con voi e di vedere il vostro lavoro e quanto certamente e sono certo questo non sarà un invito retorico faremo di tutto perché il vostro lavoro non solo continui ma cresca faremo di tutto per sostenere il vostro lavoro faremo di tutto perché oggi siamo tutti molto molto orgogliosi non solo di essere italiani ma anche di essere qui e del vostro lavoro vi ringrazio buongiorno a tutti caro presidente caro Ian e cari sottosegretari è un vero piacere essere qua riprendo le parole di Marco Simoni all'inizio oggi è una giornata di festa che purtroppo non può essere festa in pieno siamo di fronte a una tragedia una vera tragedia e il modo per affrontarla è che tutti noi facciamo quello che sappiamo fare e sicuramente il mondo della ricerca in questo è molto importante la ricerca è senza confini la ricerca è libertà delle idee la ricerca è quello che come dire dà le opportunità a tutti giovani e meno giovani di realizzare grandi sogni e di progredire nell'umanità e quindi dobbiamo essere molto uniti e insieme e lavorare insieme perché quello che sappiamo fare qui oggi e voi l'avete dimostrato in realtà è utile tutti è utile anche per creare una nuova modo di dialogo perché il dialogo adesso è sospeso ma non può scomparire non può assolutamente scomparire dovrà ricominciare e in questo senso sapete bene come la ricerca pensiamo al CERN ha cambiato tante cose quindi è un punto fondamentale che mi piace ricordare qui oggi così come mi piace ricordare qui oggi che lo diceva il sottosegretario Sirelli forse siamo in un momento in cui ricerca ha trovato nuovo interesse nuova centralità e grazie a questo degli strumenti perché per fare buona ricerca io ho segnato quattro punti ci vogliono le persone e questo è un punto fondamentale e io ringrazio per come Human Technical è riuscita a portare persone che non sono scientificamente voglio dire forti ma motivate molto motivate la cui motivazione non si vuole perdere persone progetti competitività intesa in senso buono il secondo punto ha bisogno di multidisciplinarietà e questo è un fatto che sappiamo bene che sto cercando di introdurre anche forte nelle università nei corsi di laurea e quindi questo potrebbe essere un modello un esempio che aiuterà a cambiare un po' anche il nostro sistema formativo ha bisogno di inclusione ha bisogno di includere i ricercatori da tutte le parti del mondo e ha bisogno di una casa spesso parliamo del fatto che tutto ormai può essere virtuale però la casa ci vuole non è solo virtuale perché la casa serve ed è come dire il luogo in cui la discussione è spontanea e continua non ha bisogno di strumenti ma è immediata e questo è molto importante in questo senso estendo la casa al progetto MIND naturalmente non solo al progetto Human Technopold credo che quello che dobbiamo fare oggi è capire come nel creare un sistema della ricerca italiana ho sempre detto che parliamo di sistema ma il sistema in realtà non c'è è stato molto è stato altilenante i finanziamenti sono stati altilenanti la creazione di strutture e centri è stata altilenante la diciamo visione dell'università e dei centri di ricerca da parte della politica è stata altilenante e allora questo diventa meno montagne russe se mi permettete se siamo in grado oggi di capire qual è il sistema della ricerca italiana e quindi Human Technopole in questo senso deve entrare in un sistema di network che fa già ha un network internazionale ma è molto importante che sia anche un punto in cui si persegua la propria missione lavorando insieme anche al resto dell'Italia e trovando le modalità di vantaggio reciproco dalla convenzione che ben sapete è stata firmata due anni fa credo oramai per la volere del Parlamento e che prevede un coinvolgimento della ricerca italiana dei ricercatori italiani attraverso la consultazione e anche una condivisione di strutture ecco qui noi io credo che che sia un vantaggio reciproco se riusciamo a farlo bene se riusciamo a essere chiari e inclusivi ovviamente perché questo è un punto chiave del fare sistema della ricerca in Italia e chiudo tornando a uno degli argomenti che a me piacciono sempre di più e cioè il fatto che questo e voi lo state facendo in grossa parte deve essere anche uno strumento di formazione e di reclutamento di giovani e insieme all'università di grande allargamento dei nostri giovani che vogliono fare ricerca sapete che ho aumentato tramite il PNRR le borse di studio dei dottorati di ricerca da 9.000 a 20.000 credo che questo sarà un successo solo se da un lato sapremo formarli insieme sapremo insieme creare le opportunità migliori e dall'altro valorizzarli nella maniera adeguata questo è uno meccanismo che sembra piccolo ma è fondamentale perché in Italia si ricomincia a pensare alla ricerca attraverso le persone che la fanno dando loro il valore che meritano grazie a a Grazie a tutti.